buonasera buonasera cari concittadini finito ora di parlare con Paolo Brunetti vi aggiorno aspettiamo qualche secondo per permettere a tutti di collegarsi si sente criticate si sente ok allora sono giornate molto intense per la città per la nostra squadra un pensiero va a chi mi avviso erroneamente pensa che parlare di regina significa non curarsi i problemi della città no cari concittadini la regina è un patrimonio della nostra città che serve importantissimo per logiche che vanno al di là della stessa squadra dello stesso campo e lo stesso sport così come l'aeroporto come più volte vi ho detto non c'entra niente con chi prende l'aereo conta molto di più per le imprese per i cittadini anche che non prendono l'aereo quindi l'aeroporto è un elemento centrale dell'economia regina fondamentale il cuore pulsante la regina è un gioco ma assolutamente rappresenta uno degli elementi di maggiore identità del popolo regino che purtroppo ha perso molta diciamo identità senso dell'appartenenza in questo senso ormai siamo presi di mira da tutti chi ce le dà e chi ce le promette e se non facciamo una squadra forte non sovversiva una squadra un esercito di regini buoni amorevoli verso la propria città pronti a tutto per difenderla e per costruire dobbiamo difendere e dobbiamo costruire con trasparenza giustizia legalità questa è la sfida ok quindi purtroppo noi ci siamo trovati con questa regina con una serie di venduti e traditori che ci sono in tutte le storie tragiche della città ricordatevelo sempre dietro ogni tragedia diciamo ogni ogni sconfitta ci sono i traditori che hanno tradito che rimangono impuniti perché ormai il sistema è talmente diciamo talmente come dire oleato dei traditori e dei venduti che hanno trovato sistemi di come dire hanno trovato sistemi per evitare che di essere scoperto e quindi se noi non ci proponiamo di combattere con coraggio e forza per scoparli per poi costruire perché attenzione noi possiamo siamo la polizia carabinieri noi siamo dobbiamo essere cittadini che scovano i traditori e venduti li denunciano non alla polizia ma alla città in maniera tale che poi nel momento elettorale non vengono e si nascondono come i salvatori della patria mentre hanno distrutto la patria quindi scusate che sto divagando un pochino solo perché sto aspettando un attimino vedete i collegamenti crescono perché i cittadini in qualche modo sono interessati a questo argomento come noi e quindi vorrei aspettare qualche minuto abbiate un attimino di pazienza così vi racconto diciamo quello che mi passa per la mente in questo momento dove vedo traditori e venduti in azione no purtroppo la politica è fatta di rapporti a volte mortali no mortiferi e chi soccombe la popolazione avete credo la soccombiamo noi la catena debole i forti i potenti che fanno cerco di mantenere la loro forza e la loro potenza stando attaccati alle sedie ok imbulonati nelle loro sedie quindi l'esercito di reggio con l'h 743 ac 743 avanti cristo rappresenta esattamente l'unione verso l'unico obiettivo quello di salvare la nostra città distrutta fatta da cittadini onesti trasparenti io credo nello stato credo che lo stato difenderà questo esercito lo difenderà perché noi vogliamo solo fare il bene e oggi la regina il tema della regina diventa appunto un elemento per farci capire ancora una volta purtroppo con la sofferenza nel cuore come funziona come vanno le cose allora io ve l'ho detto vi ho fatto la diretta poco fa non vi voglio voglio perdere molto tempo voglio andare al sodo della cosa del problema allora vi ho detto che ho mi sono preso la briga di chiamare a bandecchi pensavo che non mi rispondesse che non io non lo conosco io non lo conosco io non so se io non so chi chi sia lo conosco ovviamente con il personaggio pubblico ma non so non ho mai parlato con lui che ho fatto mi sono fatto dare il numero e ho tentato vi devo dire che dopo tre secondi ha risposto lui mi conosceva di nome nel senso che magari legge la cronaca e quindi vede magari gli articoli eccetera e ho fatto una domanda secca ci davamo delle all'inizio poi lui ci siamo dati del tu subito e io ho detto stefano tu siccome qua a reggio c'è un problema la storia la conosci ma c'è il dubbio tu nell'eventualità visto che questi qua del di questa società catanese hanno dato disponibilità immaginate che immaginate come sta iniziando sto rapporto no brunetti non è che aveva ancora firmato la la liberatore nulla ossa chiamarlo come volete e lo scrivono sui giornali fanno il comunicato stampa immaginate come inizia il rapporto tra la società è lo stesso brunetti che li ha voluti fortissimamente per volontà del suo mentore che tutti sapete chi è quindi questi azzicchiandiri scusami brunetti ma come mai non c'è fatto ancora la liberatore hanno fatto l'articolo dove l'hanno fatto apposta per dire attenzione noi siamo disponibili ad cedere cioè se tu se tu pensi ciao bello ciao ciao se tu pensi che c'è una società migliore per la città noi siamo disponibili e questo è stato un atto quindi di passaggio della palla di nuovo a brunetti che ha deciso quindi c'erano tutte le condizioni necessarie necessarie per chiudere la partita perché bandecchio l'ho chiamato ho detto guarda sono un consigliere comunale di opposizione sto cercando di fare questa cosa lui è stato disponibilissimo mi ha detto massimo io sono disponibile se non fossi stato disponibile mi hanno cercato loro mi hanno voluto loro mi hanno chiesto loro di venire e qua figure noi facciamo in anelliamo figure di merda una dietro l'altra proprio questa città con la cosa con la partita del cuore l'avete visto quella di vialdi che non si sono informati manco c'è guardate si fa fatica a riuscire a raccontare la città per cercare poi di risolvere i problemi ovviamente no perché l'obiettivo è sempre quello di risolvere i problemi di quante le combinano e di quante ne fanno non facciamo in tempo neanche a raccontarvele perché noi io ve le racconto perché voi le dovete sapere ma perché lo anche loro lo devono sapere perché si vergognano e cercano di fare di più di quello che fanno quindi praticamente bandecchio mi hanno detto massimo io sono disponibile perché se no non sarei venuto cioè non avrei fatto la proposta mi hanno trattato a pesci in faccia ma io sono ancora disponibile vedete di farle iscrivere questa squadra cioè vedere come se se nulla osa l'hanno fatto o non l'hanno fatto lo vogliono fare a me lo devono fare a loro qualcosa la devono fare quindi io ho detto mi autorizzi a dire alla città questa cosa assolutamente sì e mi ha autorizzato io ve lo sto dicendo infatti ho detto vuoi fare un comunicato stampa io no dirlo tu che ti autorizzai io ve l'ho detto prima sono salito da paolo per chiedergli se poter cambiare idea e lui ha detto che non vuole cambiare idea ha firmato già nulla ossa il liberatorio questi già sono a roma sono andando a roma sono a roma per domani per iscriversi purtroppo non ha voluto cambiare idea poi mi ha detto che lo chiamerà dopo lo chiamerà dopo e dopo che chiami cioè vai a trovarlo dopo ma per fare che cosa cioè dopo che l'avete ammazzato è andata a fare la visita di lutto dico non lo so qual è lo scopo se vuoi andare prima io ho detto paolo dovevi andare prima avete capito dobbiamo dobbiamo andare prima tu dovevi guardarlo negli occhi prima per capire chi era e chi non era visto che l'avete chiamato voi attraverso perché qua praticamente ognuno va in ordine spazio posso dice una cosa l'altro ne dice un altro ma c'è ognuno dice la sua e quindi c'è la confusione totale regna la totale assoluta confusione quindi è stato fatto come dice il nostro amico il nostro amico ennio mi pare un pasticcio è stato fatto un pasticcio un macello quindi purtroppo non ha voluto recedere la sua cosa io ho detto allora io lo dico ai cittadini tu ti assumi questa responsabilità e scelto potevi scegliere fatto questa scelta scellerata sotto anche ricatto cioè nel senso che lui l'ha fatta poi questa società in qualche modo oggi l'avete visto dice no se non siamo sostenuti alla popolazione dai cittadini e dai scusate ai tifosi noi quasi quasi non firmiamo insomma questo mi sembra un ricatto no quindi la responsabilità è di brunetti brunetti ha deciso ha fatto quello che doveva fare io vi dico veramente come dice maurizio auguri bandecchi è un signore io non lo conosco ma l'ho sentito dieci minuti quanto è stato dieci quindici minuti veramente ho visto una persona che nonostante quello che ha subito aveva interesse a venire a reggio calabria ovviamente lo dobbiamo dire inutile che parliamo di ghiacchiere frottole e frittole chi viene a reggio calabria viene se non abbiamo trovato imprenditori reggini guardate che questa cosa ve la dovete ricordare cari cittadini eh quando vedete i grandi imprenditori di reggio calabria questi qua di confindustria questi qua di come si chiama di camera di commercio vedete camminare linee tramontana tronfio della sua presidenza quando poi devono fare qualcosa zero gente che non riesce a concludere niente perché devono stare devono essere mediani non devono mai capite quando uno entra in una questione si deve si deve sporcare le mani deve telefonare si deve sporcare deve essere carata diciamo ma chi ve la fa fare a me fare telefonate per la regina tanto qualcosa succederà e la città viene distrutta questo è lo spirito di chi se ne è fotta di reggio